Super gossip. La dama tiziana è una delle più discusse ultimamente nelle puntate in onda di Uomini e Donne. La dama è stata molto apprezzata per una sfilata in cui ha mostrato un fisico statuario all'età di quasi 50 anni. All'epoca i due opinionisti colpiti da tale visione le hanno chiesto qualche segreto. Nessuna dieta o esercizio particolare in palestra. La donna ha rivelato di essere una donna alle prese con pulizie molto faticose che quindi la portano a muoversi parecchio e a scendere e salire le scale più volte durante il giorno. Delle frequentazioni iniziate nessuna è mai andata in porto e per sua volontà. Anche quella con Angelo, cavaliere che le ha esternato nell'ultima puntata la volontà di costruire qualcosa di più serio, non è andata a buon fine. Tiziana ha rivelato in primis di avere un blocco e di non riuscire ad aprirsi come vorrebbe. In second luogo ha ritenuto l'uomo molto più posato rispetto a lei, che invece è una donna esuberante e alla ricerca sempre di stimoli diversi. Tina però non ci vede chiaro e oggi ha accusato pesantemente la donna. Tina si è scagliata contro Angelo che sembra quasi rincorrere Tiziana dopo che quest'ultima lo ha rimbalzato. La situazione appare dunque poco chiara, come se i due si fossero messi d'accordo per portare al centro dello studio una dinamica insulsa e priva di concretezza. Tina però oggi è stata molto più decisa, insinuando qualcosa che ha costretto la conduttrice ad intervenire e a dire la sua. L'accusa più grave è quella di un presunto amante, un uomo che Tiziana nasconde in quanto già impegnato con un'altra donna e dunque in un'altra relazione. Da qui la sua permanenza in studio solo per visibilità, senza costruire dinamiche reali e degne di nota. La dama ha cercato di difendersi a meglio, negando le insinuazioni di Tina ed è intervenuta anche la padrona di casa. Maria De Filippi ha detto la sua spiegando che Tiziana non avrebbe motivi di fingere laddove questo piano fosse reale e che è frutto di una macchinazione troppo fantasiosa da arte di Tina. La De Filippi d'altronde ha detto che né Tina né nessuno nel parterre ha mai visto questo presunto uomo, oppure qualche lato oscuro nella vita della donna. Ha ritenuto dunque tale ipotesi troppo forzata e ha pregato l'opinionista di mettere i puntini sulle AI in modo da non lanciarsi in accuse troppo gravi e prive di fondamento. Ciao al prossimo video super gossip!